La soluzione d'animale è il partito. Sì, la società ha deciso questo e noi accettiamo le decisioni della società. Credo che sia un messaggio importante e si va in ritiro. Sapete che io non credo molto nel ritiro, però se serve per preparare al meglio questa partita che ben venga. Si è visto come una sorta di punizione, non credo che sia in questo caso, dopo la partita che abbiamo fatto, una cosa che ci meritiamo, ma non penso che sia per questo. Penso che lo fanno perché abbiamo una partita importantissima e dobbiamo prepararla al meglio. Quindi speriamo solamente che questi 3-4 giorni di ritiro possano far sì che la prepariamo al meglio.